Un monitoraggio automatico e continuo della qualità degli alimenti attraverso un microsistema olfattivo digitale che ricorre a dei sensori di gas per la misurazione di particolari composti aromatici, sentinelle dello stato di degradazione del cibo. E con un ulteriore sistema avviene anche il monitoraggio delle scadenze dei prodotti confezionati. Non ci sono degli scienziati o degli ingegneri navigati dietro l'ideazione di questo innovativo sistema, ma degli studenti, quelli dell'Istituto di Istruzione Superiore Marconi di Nociara Inferiore. Sono stati selezionati per la Maker Faire Room The European Edition 2023 Call for Schools. Il progetto NAO e Smart Food Conservation System continua a riscuotere dunque successi. Dopo la partecipazione alla finale della NAO Challenge Firenze 2023 e alla manifestazione Student Day è approdata alla Maker Faire Room 2023. Il progetto è stato selezionato da una commissione di esperti che lo hanno ritenuto innovativo. Al gruppo di studenti nocerini, giunti dall'Istituto guidato dal dirigente scolastico Alessandro Ferraiolo, è stato offerto uno stand gratuito dal 20 al 22 ottobre durante il Maker Faire Room. Il più grande evento europeo sull'innovazione, organizzato da Innova Camera, azienda speciale della Camera di Compercio di Roma, in collaborazione con il MIUR. Il progetto messo in mostra ha pensato anche alle persone ipovedenti. Grazie all'integrazione con il robot umanoide NAO è infatti stata prevista una sintesi vocale per la riproduzione dei messaggi visualizzati sul display. Insomma, un'idea che ha lasciato il segno per innovazione e completezza.